Your ride's over, beauty. Time to die. Il benvenuto a tutti voi ringraziando anche i miei consiglieri dello scorso episodio che mi hanno dato dei consigli, delle opinioni, dei punti di vista sulla serie in corsa e quali possono essere i nostri prossimi passi da portare avanti. Un ringraziamento anche a tutti voi a schermo e ovviamente anche un benvenuto a tutti i nuovi iscritti del canale che hanno deciso di unirsi alla nostra famigliola. Dunque io in questo tempo passato tra il primo e il secondo episodio ho iniziato un po' ad analizzare la situazione dal punto di vista proprio del gioco, del focus 3, delle meccaniche. Io ho notato che effettivamente noi abbiamo la possibilità di iniziare un attacco contro i nostri vicini, cioè la regione del New Reno, attraverso il focus 3, ma lo possiamo fare anche grazie semplicemente al Justify War Goal. Come vedete ci vuole del tempo, ma teoricamente lo possiamo fare. Quindi il mio obiettivo al momento, come vedete, è aver messo già le Power Armor in posizione, avergli dato un piano d'attacco molto diretto per la conquista della capitale e appena noi andiamo a terminare il minimo necessario di focus per quanto riguarda la nostra Enclave Radio, che dovrebbe essere esattamente qua, eccola qui, e quindi andremo poi a iniziare il nostro claim nella regione. Vorrei andare a prendere anche Contact Remnants, che come vedete ci permette di richiamare Manpower attraverso il PP e vorrei anche avere la possibilità di guadagnare del PP che comunque male non fa. Questo dobbiamo ancora aspettare perché ci serve più del 30% di Stability, ma anche qui per quanto riguarda Stability e World Support ho intenzione di lavorare a breve al riguardo perché, come vi ricordate, appena arriviamo a 200 di PP andremo a prendere l'ex presidente come advisor culturale per la nostra fazione. Il sergente Dornan entrerà a far parte del gruppo direttivo dell'Enclave stessa. Quindi, detto questo, iniziamo già col nostro episodio, andiamo subito a vedere perché facendo addestramento sono riuscito a guadagnare abbastanza Army Experience per i primi perk. Come vedete i perk sono divisi per Fanteria, Special Forces, Robot e Vehicle. Inoltre noi abbiamo anche qua una scuola di dottrina, per così dire, che sono una sorta di perk aggiuntivi dal punto di vista militare. Come vedete noi qua abbiamo dei bonus più generali legati molto spesso all'ambiente geografico nel quale ci ritroveremo a giocare. Legata quindi ai robot, alle Special Forces, anche ai veicoli. Insomma, sarà una sorta di personalizzazione aggiuntiva per quanto riguarda i nostri perk. Ora, visto che l'ambiente di azione post-apocalittica è molto difficile da portare avanti dal punto di vista tecnologico, voglio cercare di approfittare di quel poco che abbiamo. E quindi prendere già il primo perk, cioè New Routine, che ci permette di avere un Supply Use meno 0.03% e abbiamo un costo dell'Experience per la Fanteria del meno 10% e il Walking Infantry Combat Experience Gain più 3%, che male non fa. Tanto guardate che figata quanti bonus abbiamo generici per tutti i nostri tipi di Fanteria, addirittura anche per i gruppi con i cani. Quindi davvero molto molto interessante. Iniziamo a prendere questo. Una roba che purtroppo non sapevo è che le Power Armor utilizzano in realtà le celle di energia. E come vedete le celle di energia adesso sono un po' pochine, perché io ho utilizzato le nostre Power Armor per fare addestramento e sono diventate, come vedete, più forti alcune di esse, però purtroppo abbiamo bruciato tutta l'Energy Cell. Quindi il mio obiettivo adesso sarà provare un attimino a guadagnare abbastanza Energy Cell indietro mentre faccio quei Focus 3 e mentre faccio il Claim. Fatto questo dovremmo avere abbastanza la capacità per poter attaccare, perché come vedete dovremmo riuscire ad avere pieno la barra di Energy Cell in tre mesi e mezzo. Quindi credo di riuscire a poter fare il tutto. Abbiamo fatto l'Enclave Radio e come vedete ci dice che arriva live dalla Sierra Army Depot un annuncio sponsorizzato ufficialmente dal Presidente stesso. Abbiamo una selezione di musiche patriotiche approvate dalla FCC, esattamente come anche ottime news dal fronte di guerra, che ci permette di mostrare a tutti voi il ritorno glorioso dei nostri ragazzi mentre cercano di riprendere l'America di nuovo indietro. In altre parole questo vedete che è sostanzialmente una sorta di annuncio di propaganda. Rimanete sintonizzati per una nuova novità alle ore 2. Power Gain più 0.10, Deception più 20%. Molto bene, andiamo a vedere il nostro nuovo, quindi, Focus 3. Direi andiamo a iniziare i contatti con i rimasugli dell'Enclave. Ci sono molti veterani dell'Enclave sparsi in tutta la zona contaminata. Dobbiamo richiamarli a noi per fare in modo tale che rimangano leali al governo degli Stati Uniti e possono quindi ritornare tra le braccia protettrici del Presidente degli Stati Uniti. Ok, abbiamo di nuovo incontrato la Crimson Caravan. Ci dà però la possibilità, visto che il nostro Presidente Heilperk Resourceful, come vedete, ci dà la possibilità di switchare l'utilizzo con le Power Armor T-51, cioè quelle teoricamente del periodo prebellico. Molto figo perché questo, come vedete, ci va teoricamente a far scendere il sospetto dell'Enclave di 10 punti. Al momento ci costa quindi 10 pp. Vediamo se, switchando con le T-51, noi abbiamo la possibilità di ufficialmente arrivare a un costo zero. E inoltre abbiamo delle voci di corridoio che affermano che un amministratore molto rispettato del nostro Entourage sia in realtà un mutante. Sebbene molti del personale più giovane siano nati anni dopo la caduta di Navarro e siano sopravvissuti da soli come soldati dell'Enclave, avendo una sorta di madre assente, bisogna tenere presente che queste voci, sebbene possano essere verificate vere, potrebbero essere un rischio per la nostra sicurezza. Allora, Political Power meno 10, Manpower meno 1, wow! Cazzarola? Stability addirittura meno 5, sticazzi! Allora, c'è da dire che dal punto di vista di roleplay ci sono solo delle voci. Il nostro presidente Anderson diciamo che non è ancora così folle da epurare a destra manca chiunque, dopo tutto è appena salito al potere e come vedete la fazione purista è al 60%, ma comunque il suo obiettivo è quello di integrare la vecchia fazione dentro di sé per cercare di creare una collaborazione, sebbene comunque gli ideali vogliono essere quelli eugenetici. Quindi trovo coerente che il suo obiettivo sia quello di dire they are just rumors, finché non portano prove non ha senso iniziare una lotta interna così radicale in una fazione già di per sé debole rispetto a colossi così grandi come quelli dei nostri vicini. Stiamo ricevendo dei report degli ufficiali dell'enclave che sono contro la nostra leadership. Beh, allora in questo caso se già puntano a mettersi contro la nostra leadership, allora assolutamente non possiamo accettarlo. L'esercito sarà la nostra ossatura per il controllo della zona contaminata, quindi raccoglieteli tutti insieme, gli ufficiali, e risolvete la questione verso tutti coloro che si sono opposti a noi. Guadagniamo ulteriore 10% verso gli elite e gli intellectual perdono 5%. Purtroppo perdiamo 250 uomini, ma in questo caso la nostra fazione purista, come vedete, sale ben al 70%. La leggenda del generale James Song. Sembrerebbe che una guardia quasi al di fuori dei nostri confini, vicino al depot della Sierra Army, ha sorpreso un uomo con un'armatura atomica che si stava avvicinando, trascinando dietro di sé il corpo di un Deathclaw Alpha. Ovviamente appena l'hanno visto gli hanno sparato, ma i colpi sono rimbalzati facilmente sulla sua armatura. Dopo aver controllato nel dettaglio di chi si trattase, risulta essere il generale James Song, che è stato visto l'ultima volta a comandare la difesa di Navarro contro l'assalto combinato dell'NCR e della confraternità d'acciaio. Mentre il Sargente Maggiore Dornan aveva guidato la ritirata per cercare di proteggere la salvezza delle enclavi, il generale Song ha guidato invece un attacco diversivo che aveva salvato il sogno stesso delle enclavi. In altre parole, si era immolato con i suoi uomini. A lungo avevamo pensato che fosse morto, o quantomeno fosse caduto prigioniero dell'NCR o della confraternità d'acciaio. Ma si è rivelato falso tutto ciò, perché lui non solo è riuscito a salvarsi, ma durante la sua fuga ha ucciso un Deathclaw maschio alfa e l'ha portato fino a noi nel corso del suo percorso usando la carcassa dell'animale per cibarsi e far cibare alcuni degli uomini che aveva portato con sé. In altre parole, è un soldato con i coglioni d'acciaio. Bentornati i generali. Lo guadagniamo quindi come Unit Leader, James Song. Vediamo un attimo qual è il perk che ci dà. Minchia, un 4-4-3-2. Rispetto a questo che è un 5-2-4-3. Questo come perk abbiamo detto che è purista, agile, melee attacker, lockhard, gun nut. Questo è strong, endurin, intelligent, desert fox e abbiamo un ulteriore bonus. Porca troia! Gli diamo assolutamente il controllo delle nostre power armor. E a questo punto vediamo un pochino anche qua che cosa dare. Allora, anche qua dal punto di vista di lore, lo vedo quantomeno sensato che lui abbia come perk survivalist. Cioè, questo qua si è fatto dalla West Coast di Navarro fino a noi a piedi. È riuscito ad ammazzare da solo un Alpha Deathclaw per cibarsene. È una bestia allucinante. Addirittura, forse, più che il survivalist, diamogli il bonus Cunning Desert. Che secondo me è persino la scelta migliore. Allora, visto che effettivamente abbiamo difficoltà per ora a produrre delle tante unità e vedo che qua abbiamo la possibilità già di tenere 20 divisioni io vorrei provare a dare intanto Division Recovery Rate che secondo me mi sembra un buon tratto. Molto bene. Per quanto riguarda addirittura il resto io sarei un po' tentato di aspettare anche se Awareness potrebbe non essere brutta dato che ci dà ricognizione più 100% e la possibilità di essere feriti in battaglia meno 20%. Questo non è male. Sapete cosa? Gli do anche questo. E teniamoci fermo così. Abbiamo contattato quindi i rimanusugli dei nostri soldati Uh, qua potremmo avere Army Experience più 100 e potremmo far arrivare tre veterani della zona contaminata. Ecco, questo è molto figo al costo di un po' di manpower. Allora, direi andiamo direttamente con questi. Molti dei veterani della linea dura delle enclave sono andati nella zona contaminata fuggendo dalla caduta sostanzialmente di Navarro. Anche con molte risorse possiamo cercare di riuscire a trovare questi uomini e queste donne e farle riunire quindi al nostro team. Molto bene. Ok, in altre parole qua non sappiamo assolutamente che cosa sia uno stock. Addirittura viene chiamato stonks. E tra l'altro non sappiamo neanche che cacchio sia un investimento. Ma sembrerebbe che il nostro advisor Jeremy ci abbia detto che abbiamo investito i soldi in maniera corretta e abbiamo guadagnato 60.000 dollari. Con questi bonus interromperei subito perché ci ritroviamo ad avere ben 80.000 dollari nel nostro magazzino. Con questi 80.000 vorrei iniziare subito un programma di scavenging come vedete che ci permette in questo caso di avere per 90 giorni due civilian factories e perderemo 50 di manpower. Stiamo un po' cercando di capire insieme come funziona quindi vediamo se queste civilian factories effettivamente rimangono momentaneamente o meno. Anche se io adesso che ci penso ragazzi non ho slot di costruzione quindi forse questo programma di scavi potrebbe essere utile farlo appena andiamo a conquistare Nureno. Adesso forse mi sembra un po' sprecato. L'NCR intanto sembra avere delle problematiche riguardo al suo presidente perché il presidente Kimball si è ritirato dalla carica principalmente dovuta a un'investigazione sulla crisi di Navarro perché sembrerebbe che appunto il presidente sia stato messo in sfiducia dal punto di vista dell'esercito. Interessante. Quindi come vedete il nuovo presidente il presidente Murphy inizierà una nuova riforma di anticorruzione che andrà avanti fino alle elezioni del 2278 quindi ancora per un paio di anni. Abbiamo contattato i nostri intanto veterani e adesso direi andiamo avanti per quanto riguarda la spedizione di Mariposa. Molto tempo fa abbiamo controllato la base militare di Mariposa e abbiamo usato il lavoro degli schiavi per riuscire a scoprire i livelli più inferiori permettendoci di avere una grande quantità illimitata di FEV che veniva appunto prodotto lì. Mendando un team di ricerca e di soldati nella base di Mariposa potremo finalmente riscoprire tutti i suoi segreti. Questo è anche molto interessante perché la base di Mariposa in realtà sarà quella che in Fallout 1 fungerà da base principale per la creazione del Master cioè se non erro il cattivo principale di Fallout 1. infatti i soldati dell'enclave che si ritrovarono lì poi si ritrovarono bloccati nella base e iniziarono lentamente a mutare. Gran parte morirono tranne uno che praticamente negli ultimi istanti della sua vita prima di morire cadde nel FEV e divenne quello che appunto poi si andò a fondere dal punto di vista biotecnologico con i computer della base per diventare il Master. Quindi andiamo a creare nuovo political power per cercare di creare questa spedizione nella base di Mariposa. Intanto andiamo un po' a vedere se c'è la possibilità di guadagnare questi soldati. Eccoli qua! Ok, allora 200 di manpower per avere che cosa? Non si sa. Mentre qui guadagniamo manpower utilizzando... Beh, questo è molto buono utilizzando PP quindi tutto sommato diciamo che andiamo in compensazione con questi due. Quindi iniziamo già a richiamare l'oro visto che sostanzialmente non ci costa eccessivo PP. nel frattempo vedo tra l'altro qua che abbiamo anche delle divisioni non assegnate perché abbiamo ufficialmente guadagnato i nostri tre soldati in power armor. Molto bene! Spettacolo! Quindi questi li aggiungiamo al fronte a sud. e andiamo anche a fare una nuova dottrina direi andiamo a guadagnare un supply ridotto e andiamo a prenderci anche un'organizzazione aumentata che male non fa. E qui abbiamo in realtà un evento che è stato citato in Fallout New Vegas cioè l'inserimento dei ranger all'interno dell'NCR. Quindi tutto sommato abbiamo una problematica perché i ranger sono un'elite sostanzialmente nella zona contaminata della West Coast e quindi averli all'interno dell'NCR è per noi abbastanza un problema. Come vedete guadagnano una tecnologia Ranger Support Unit. Ed eccoci qua. La base di mariposa. Ok, la maggior parte della base si trova sottoterra e dobbiamo trovare un codice di entrata per un'entrata posteriore. Allora, il nostro assalto è riuscito a penetrare nelle zone più inferiori della base. I rumori degli spari e le nostre urla hanno creato degli echi nei corridoi di metallo. Sembrerebbe, tra l'altro, che questi nostri rumori abbiano svegliato dei supermutanti che vivevano in profondità e Dio solo sa come questo sia possibile. Questi supermutanti, signori, sono i supermutanti che erano nati a seguito della formazione del Master. Quindi possiamo ordinare ai soldati di catturarli, ok, oppure possiamo uccidere i supermutanti direttamente sul posto. Beh, io sinceramente voglio utilizzare una fazione purista e roleplay. Andiamo a perdere del manpower e andiamo a guadagnare ulteriore war support. Siamo al 39%, molto bene. La nostra prima squadra di supermutanti è stata ufficialmente eliminata. Mentre il nostro team si avvicina all'obiettivo della spedizione, vediamo finalmente dei bacini verdi, brillanti, di FEV. E molti di questi bacini, però, purtroppo sono danneggiati. Il FEV in questi bacini sono ormai contaminati e non è assolutamente possibile utilizzarli per fare delle ricerche. Mentre continuano ad avvicinarsi sempre più supermutanti alla nostra posizione, dobbiamo decidere velocemente che cosa fare. Allora, possiamo avere la possibilità di prendere solo una fiala di FEV puro, oppure possiamo portare quanto più possibile nelle nostre mani. Però perderemo 100 di manpower. Beh, però qua ci dice che potrebbe esserci molto utile in futuro. Però c'è anche da dire che io vorrei avere un war support in crescita. Allora, fatemi vedere un attimo quanto war support ci serve per il Focus 3 e quanto ce ne darebbe il nostro Dornan. Allora, ragazzi, io ho provato a vedere. Effettivamente potrebbe tornarci utile questo bonus. E sebbene noi possiamo approfittare di questo war support meno 5, dato che ho provato a vedere tutti i bonus sono fattibili solo con un war support al 50%, e tanto al 50% non ci arriveremo, perché noi siamo al 39% più il bonus di Dornan arriverebbe più 5%, quindi arriveremo al 42,4%. C'è da dire che questo stability al meno 5% ci andrebbe a penalizzare moltissimo dal punto di vista del factory output e dall'income. Quindi cerco di portare solo una fiala. Non voglio esagerare eccessivamente. Allora, a questo punto io vi direi iniziamo a fare già Take New Reno, visto che ci vogliono solo 20 giorni e qua siamo già full, quindi iniziamo a fare un piano di attacco per il New Reno. Con il morale che lentamente si alza all'interno della nostra fazione e tempo per guardare al di fuori dei nostri confini e iniziare le preparazioni per la liberazione dei territori occupati dei mutanti. Molti di questi territori possiedono dei componenti militari, equipaggiamento militare, che è indispensabile per i nostri obiettivi. Prima di tutto dobbiamo iniziare col nuovo Reno, che sarà il nostro vecchio posto nel quale eravamo soliti nasconderci. Molto bene. E con 241 punti iniziamo già a prendere come advisor il nostro generale Dornan. Come vedete intanto sono andato avanti e ho chiamato anche il secondo gruppo di veterani. Siamo a due di tre e questo ci permette di avere, beh, non male, guadagniamo dell'experience aggiuntiva e sebbene qua il fronte è leggermente più debole, come vedete abbiamo solo un'unità, il mio obiettivo è quello di andare a riuscire quantomeno ad attaccare il più velocemente possibile prima di andare a perdere il fronte a nord. Uuuu, interessante. Allora, un soldato è stato beccato privo di uniforme. Anche questa è una citazione riguardo a Fallout 2. Potremmo perdere ulteriore stability ma avere un'interessante crescita di world support. A questo punto però io vorrei mantenere una stability un po' più alta perdendo un pochino di world support che secondo me ci conviene tenerla un po' più coerente anche con uno stesso punteggio. Fatto il claim sul New Reno andiamo a fare Voltec H-Quarter. Prima della grande guerra il nostro governo aveva lavorato a stretto contatto con la corporazione che veniva chiamata Voltec. I bunker sottoterra che avevano costruito potrebbero essere la nostra ultima speranza di trovare degli uomini non mutati. I luoghi nei quali questi vault si trovavano ormai è stato perso nel tempo ma abbiamo motivo di credere che le informazioni possono essere ritrovate all'interno degli headquarters del Voltec. Possiamo cercare di pianificare un'espedizione per cercare di penetrare nel quartier generale della Voltec e trovare quindi le posizioni all'interno della zona contaminata di questi vault. Political Power più 100. Allora andiamo a vedere ufficialmente possiamo dichiarare guerra? Molto bene possiamo già dichiarare guerra a loro. Quindi signori direi che i metodi i modi sono pronti per il nostro attacco. andiamo a dichiarare guerra alla fratellanza guidata dall'ex Trad e andiamo ad attaccare in questo caso Nuova Reno. I nostri piani d'attacco vengono subito portati avanti con efficienza dalle Power Armor mentre come vedete gli ausiliari cercano per ora di attaccare queste unità per tenerle ferme visto che il fronte Nord è al momento sguarnito. Nel frattempo direi proibiamo a prendere uno di questi e andiamo direttamente qua mentre questo sfonda qua e va qua. Andiamo con lui che si sta spostando andiamo a Nuova Reno e poi a Carson City mentre questo che sta attaccando va più che bene qua mentre questo direi che si sposta qui e va qui. La caduta di Nuova Reno signori nel caos che è stata la battaglia di Nuova Reno sta finalmente giugno da termine l'enclave ha iniziato a sviluppare un nuovo ordine all'interno della città i combattimenti stanno continuando anche in tutta nella zona circostante e viene ritenuto che la città continuerà in pochi giorni a riprendere una vita quotidiana e tranquilla appena l'enclave avrà sterminato la popolazione abbiamo sentito delle storie ma questo posto è sinceramente decisamente peggio di quello che pensavamo perfetto ok queste sono state eliminate facciamo così e poi andiamo di qua e questi vanno qua qua e poi vanno quassù molto molto bene appena abbiamo terminato di ricercare anche i nostri cani da combattimento abbiamo anche occupato felicemente new reno yes signori nuova espansione perfetto e abbiamo espanso il nostro controllo molto molto bene come vedete il nostro attacco ci ha bruciato metà delle nostre power cell quindi a questo punto io dovrei avere adesso se non erro anche la possibilità di eccolo qui il nostro piano economico però perché disabilitato ah perfetto quindi possiamo mettere un commercio verso altre zone proviamo a metterle verso la wall city così dovremmo aver messo il commercio unico verso la wall city mi sembra di sì allora nel frattempo vi direi andiamo a mettere come area defense la zona che abbiamo occupato così andiamo a limitare le problematiche del controllo per quanto riguarda questa questa sta ancora tornando qua quindi gli togliamo il fronte e molto semplicemente lo mettiamo qui e lo mettiamo ad addestrare e tra l'altro guardate che figo ragazzi siamo saliti a 19.000 dollari al mese con un bacino di utilizzo di 101.000 dollari allora vediamo se c'è qualcosa che potremmo utilizzare adesso se non erro se noi andiamo sulla costruzione abbiamo pochi slot ancora a disposizione qua quindi vediamo un pochino per quanto riguarda la produzione noi ne abbiamo 5 di meals cazzarola quindi iniziamo magari a produrre delle altre meals che male potrebbe non essere quindi facciamo 1 e 2 e andiamo a vedere un pochino qua se abbiamo delle possibilità questo ci darebbe delle civilian factories che teoricamente dovrebbe aumentare anche la nostra capacità di produzione di costruzione quindi andiamo a prendere loro e a questo punto io vi direi utilizziamo gli altri bonus quindi vi direi continuiamo a chiamare altri uomini allora facciamo l'ultima richiamo dei veterani e intanto continuiamo con il nostro Voltech HQ nel frattempo abbiamo terminato anche la ricerca dei cani da combattimento quindi direi continuiamo mettendo anche la ricognizione di secondo livello e vorrei provare a vedere se le nostre power armor possiamo mettere come possibilità Raycon ottimo ce l'abbiamo quindi direi iniziamo a mettere Raycon che non mi dispiace e basta non voglio esagerare perfetto e così comunque guadagniamo un po' di ricognizione che male non fa sembrerebbe che intanto un report dell'intelligence sull'NCR ci ha portato una notizia su degli Sherman dei tank Sherman della seconda guerra mondiale che sono stati riscoperti dall'NCR quindi adesso abbiamo la possibilità di richiedere dei pantaloni marroni o una maglietta rossa ovviamente citazione a Deadpool dove abbiamo la possibilità di dare all'NCR 10 tank oppure 40 tank di alto livello sinceramente vi direi ragazzi questa è la nostra prima run vorrei cercare di avere addosso i brown pants quindi cerchiamo di utilizzare 10 tank solo per l'NCR non diamogli troppi bonus perché ancora non so bene come possa essere questa modalità di gioco oh bene signori allora scoperta la questione riguardo al tratto commerciale del new reno in altre parole dovevamo cercare di riprendere il controllo della zona economica dopo il nostro attacco quindi questo teoricamente se ho ben capito ci dà la possibilità yes ci dà la possibilità finalmente di avere il trade node disponibile spettacolo ok ok quindi vediamo un pochino i member state sono questi ok quindi il trade node per avercelo appieno sotto il nostro controllo dovremmo controllare ecco anche le regioni confinanti quindi potrebbe essere una buona idea quella di lavorare per attaccare ufficialmente le regioni confinanti per unire la regione del new reno bene questo non mi dispiace abbiamo terminato la nostra ricerca nei vault tech dell'hq e quindi possiamo vediamo un pochino avere il tlaloc design quindi praticamente una sorta di fisheye quello famoso anche presente nel in fallout new vegas e fallout 3 che ci dà efficienza messicana interessante per i robot o potremmo aprire i vault per avere 4000 di popolazione sti cavoli ragazzi non male ma con il 30% di stability potremmo avere una support technology per avere un enclave military che ci dà un 20% di popolazione reclutabile allora direi facciamo recognize the troop decadi di separazione isolamento hanno distrutto la nostra organizzazione militare dobbiamo formalizzare la nostra catena di comando e fare in modo tale che l'esercito torni alla vecchia gloria riorganizzate anche qua le nostre truppe vediamo un pochino qua ci serve 40 di stability purtroppo non ce l'abbiamo quindi direi andiamo avanti e apriamo i vault è giunto il momento di aprire gli ultimi vault ancora chiusi per inserire all'interno delle nostre fila la popolazione umana sebbene questi possono accettare di unirsi a noi tutti coloro che si rifiuteranno saranno o costretti a cambiare idea o moriranno secondo il nostro interesse apertura dei vault e sembrerebbe che la questione si sta andando a complicare per noi perché sembrerebbe che l'orso possiede le ali in altre parole il l'NCR ora possiede anche alcuni vecchi modelli di LAX dei nuovi fighter almeno nuovi per la zona contaminata grandioso quindi adesso hanno anche un air force forse dovremmo iniziare a costruire qualche fighters forse qualche anti air gun e la situazione qua inizia a essere complicata l'NCR non è affatto debole un'altra cosa che vorrei farvi notare è che cancellare le attività le nostre attività verso l'NCR diventa sempre più costoso perché in questo modo adesso già ci costa circa 60 punti di PP quindi mannaggia inizia a essere sempre via via più difficile fatto questo abbiamo guadagnato lentamente guadagneremo 4000 di popolazione quindi direi proviamo a vedere o possiamo fare anche altro allora qua siamo bloccati dal 50% di war support per quanto riguarda qui dobbiamo avere ottimo almeno 80% del supporto per i puristi e possiamo finalmente togliere quella malus di political infighting quindi molto bene andiamo a eliminare la lotta interna un'altra roba che volevo farvi vedere è che mi sono reso conto che dal punto di vista del controllo dei territori occupati se voi vedete noi possiamo utilizzare varie unità ma non possiamo assolutamente utilizzare le power armor quindi siamo costretti a utilizzare gli ausiliari dell'enclave gli ausiliari dell'enclave purtroppo io ne avevo uno solo come vedete e questo ci ha portato ad avere dei malus perché stanno continuando a danneggiare le nostre factories quindi per fare questo ho iniziato una produzione massiva come vedete di uomini almeno arriveremo a 6 unità in totale e spero in questo modo di riuscire a limitare un pochino i danni anche perché vi voglio ricordare noi non dobbiamo assolutamente salire oltre il 25 se saliamo oltre il 25 succede un bordello sembrerebbe che nel frattempo dei soldati abbiano deciso di fare di testa loro andare durante in una missione di ricognizione ad attaccare dei mutanti questo potrebbe essere inteso ovviamente come un'ottima azione dal punto di vista della fedeltà agli ideali dell'enclave però potrebbe se fatta con disattenzione mettiamola così far parlare eccessivamente di noi quindi possiamo punirli ok fare una corte maziale urca oppure ma si dire ma su tutti i ragazzi allora questo potrebbe guadagnare world support interessante beh cavolo a noi world support ci serve ragazzi dobbiamo salire al 50 quindi che vi devo dire boys will be boys va bene approfittiamo del world support quindi fatto questo mentre abbiamo terminato la purga per la nostra opposizione vi direi ragazzi potrei pensare come vedete di avere un ottimo claim in queste regioni però voglio dare una scelta anche a voi e vedere un attimino quale può essere l'opzione migliore nel dubbio andiamo avanti e riorganizziamo i nostri ingegneri quindi come vedete gli ingegneri hanno fatto un grosso lavoro per far riattivare le power armor però ovviamente non sono ancora pienamente efficienti dobbiamo lavorare affinché questo succeda quindi 50% di research bonus tra l'altro questa qui come vedete avevamo il 50% di research bonus sui support quindi se noi andiamo a vedere qua il support possiede il 50% come vedete molto bene su un sacco di cosine interessanti tipo gli auto injector che ci permette di avere un recovery rate e anche un experience loss assai ridotta che devo dire ragazzi non è affatto male 293 giorni quindi io quasi quasi l'utilizzerei non per avere questo ma per avere un reconnaissance aumentato quindi aspettiamo i 27 giorni facciamo la reconnaissance aumentata dopodiché direi che possiamo anche terminare qui per oggi ottimo abbiamo guadagnato un altro research speed del 3% quindi direi andiamo vediamo un pochino qua reinforce rate encryption decryption ecco questo potrebbe essere una buona idea intanto riorganizzati i nostri ingegneri ho notato una roba molto interessante perché noi abbiamo la possibilità di utilizzare i servomech ibot come garrison nelle zone conquistate e i ibot li posso andare a utilizzare appena noi nella zona della robotics facciamo il fission batteries e i servomech ibot quindi tendenzialmente abbiamo la possibilità di utilizzare dei robot per il controllo della zona contaminata senza utilizzare prezioso main power come sto facendo adesso quindi io direi che l'opzione migliore sia andare a estendere il beacon quindi continuare ad avere political power gain che ci serve molto in vista della situazione contro l'NCR ma soprattutto poi adesso il prossimo passo della ricerca sarà utilizzare i robot per andare a controllare le zone conquistate anche perché come vedete noi abbiamo la possibilità di utilizzare queste truppe però le truppe hanno bisogno di molto 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 equipaggiamento fatto questo quindi andiamo avanti per il progetto che vi dicevo facciamo le fission batteries e terminato questo puntiamo poi a fare anche un reinforce rate che male non fa e anche la legione sembra aver preso letteralmente il volo perché ha inserito all'interno del suo esercito i primi palloni aerostatici come forza aerea eccoci qua perfetto direi che a questo punto signori siamo molto pronti i punti di pp mannaggia continuano a salire per l'NCR quindi come vedete è già davvero un casino questa cosa però lentamente dovremmo sperare di guadagnare abbastanza pp per risolvere anche questa problematica direi che a questo punto siamo pronti lentamente il nostro stato sta crescendo le territori occupati come vedete adesso intanto sono già scesi al 10% molto molto bene e il mio obiettivo adesso sarà capire in che modo orientarsi per la nostra espansione mi piacerebbe molto nella zona del vol city perché è una zona tremendamente ricca come vedete è una zona davvero davvero ricca quindi potrebbe essere una buona idea quella di dopo aver creato i beacon andare a puntare direttamente su un'espansione come vedete verso la vault city non abbiamo abbastanza uomini per annetterla pacificamente però secondo me abbiamo abbastanza uomini per annetterla militarmente detto questo ragazzi è tutto dal nostro presidente anderson ci possiamo anche salutare e ci vediamo il prossimo episodio un saluto a tutti ragazzi a presto